Parleremo delle attività dell'unità operativa di medicina riabilitativa che si svolgono prevalentemente nei reparti per acuti dei tre presidi ospedalieri di Fano, di Pesaro e Moraglia. Il nostro lavoro consiste prima di tutto nella presa in carico degli individui di tutte le età suscettibili di recupero funzionale, che sono degenti nei vari reparti. Questi pazienti necessitano di un progetto riabilitativo individuale redatto dallo specialista fisiatra ed attuato dal fisioterapista e dal logopedista. Illustreremo poi le attività del centro ambulatoriale di riabilitazione, ubicato nel presidio ospedaliero di Fano, che è rivolto a pazienti che si trovano in fase post-acuta, portatori di disabilità di ordine ortopedico, neurologico, oncologico e più recentemente anche cardiologico. Dedicheremo poi in particolare una parte di questa ripresa alle attività che si volgono nel servizio di riabilitazione cardiologica.